Grande fratello Alessio dice di non avere ricevuto l'invito per il compleanno da Vittorio perché Anita gli ha dato, il palo al GF. E adesso vi parliamo di Vittorio Menozzi che ha festeggiato il suo compleanno qualche giorno fa, alla sua festa di compleanno però c'erano degli onnustri assenti, ossia i vari Beatrice Luzzi e Sergio Dottavi, che sinceramente se non ho capito male non sono potuti intervenire perché avevano dei precedenti impegni lavorativi, ma sopraotto non erano presenti Alessio Falsone e Anita Olivieri. E proprio il milanese d'azione ha fatto capire indirettamente che ad alcuni ex inquilini della casa i pali di Anita li avrebbero in fastidi. Insomma il dubbio è che si riferisse a Vittorio e anche a Federico, fatto sta che ha detto chiaramente che Anita non ha ricevuto l'invito e che lui non sarebbe andato anche se lo avesse invitato. Oggettivamente non mi ricordo di avere visto durante il Grande Fratello tutto questo grande interesse di Vittorio per Anita, ma magari ci stiamo sbagliando noi. Fatto sta ha dichiarato Alessio Falsone. Non posso frequentare tutti quelli che erano nella casa. Allora, ragazzi io mi scoccio e cercherò di dire le cose come stanno. Io alleno una squadra, ho giocato in squadre da circa 20 persone, andavo d'accordo con tutti, ma ho legato con 3 o 4 persone. Non è che esci e vai a mangiare con tutti e 20, è normale. Ma poi non è che se non siamo insieme al compleanno allora ci schifiamo. Non me ne frega nulla, nemmeno di andare d'accordo con tutti mi importa qualcosa. Vittorio non ci ha invitato, ma sono d'accordo con la sua decisione sua di non invitarci alla festa. L'avrei trovata una cosa molto ridicola, infatti preferisco non essere stato invitato al suo compleanno. Io non voglio fare polemiche, ma tutti quelli che ci hanno provato con Anita hanno preso il palo. Adesso però si mettono a seguire sui social l'ex fidanzato di Anita. Poi cosa ci invitano a fare me e Anita? Non ci si comporta così secondo me, è abbastanza ridicolo. Trovo più credibile e coerente non essere stato invitato, anche perché poi non sarei andato. Meglio così, la trovo una cosa più sensata. Però avevo ragione quando dicevo che non erano amici, non tanto verso di me, a verso Anita. Perché manco lei è stata invitata al compleanno. Poi capisco che prendere i pali possa dare fastidio, però succede, agli altri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.